Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e tutti. e tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. . a tutti. . . . a tutti. . . . . . . . . si sè certo ma questo è un progettivo si lo fa che a 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 0.57 0.57 0.57 0.57 301 1-0.57 0.57 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 2pq 0.45 0.31 0.43 0.53 0.54 0.47 0.56 0.47 0.57 0.45 0.52 0.47 0.48 0.58 0.49 0.59 0.59 0.59 0.59 0.4902 0.4902 0.4902 0.4902 0.49 Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S in which condition the gene ratio remains constant for any species in which condition the gene ratio remains constant for any species when two species of different genealogy comes to resemble each other as a result of adaptation the phenomenon is termed convergent revolution which is the following is the most important preconditional of speciation to occur speciation most important factor is reproductive isolation allde day discusses policial option e 60 Reproductive Isolation specification is the subject basic episode reproductive isolation culinary studies questo è il bestemmo punto io ho capito questo è il bestemmo si ho capito ci sono le due il bestemmo ovviamente questa è la questa è la anche ci sono la la questa è la il nostro corso il nostro corso www.mesmerism.info 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 Siamo finissà, come vi ho capito, vi la passare augurato, vi ho capito. Sei che le informe che ciò questo diciamo. Qu,'sì, posso dirvi che ho capito? Questo cos'è quello che si dice cellulare? Voce che non si dice la cellulare sui? Signore, sè, se viene l grande? Sì, non c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.